Saranno ultimati prima dell'estate i lavori all'ex distretto di Viale in Audi nel quartier di Sant'Anna. L'intervento, che fa parte del progetto Quartieri Social, ha richiesto un investimento di quasi 1 milione e 400 mila euro. Il vecchio edificio, costruito negli anni 70, è stato infatti completamente demolito per fare spazio a due nuovi fabbricati, realizzati con materiali estremamente efficienti dal punto di vista energetico. La palazzina a nord sarà gestita dal comune. Abbiamo pensato e stiamo definendo una serie di interventi che prevedono al piano terra un intervento di tipo dopo di noi, una struttura comunitaria ad alta integrazione sociosanitaria destinata alle persone adulte con disabilità. Al primo piano abbiamo pensato uno spazio legato alla mediazione culturale con una sala multifunzionale. Al piano secondo abbiamo pensato ad un'idea di co-working. La palazzina a sud, quella su due piani, sarà invece gestita dalla ASL e accoglierà servizi ambulatoriali e territoriali legati alla sfera sanitaria e sociale, rivolti a tutta la cittadinanza e anche a specifiche tipologie di cittadini, come bambini, anziani e persone con difficoltà motorie. Obiettivo? Lavorare sul concetto di medicina di prossimità. E questo tipo di presa in carico è una presa in carico che va fatta a livello territoriale cercando di mantenere quanto più possibile la domiciliarità e quindi portare i servizi vicini alla comunità. Nel corso del sopralluogo effettuato dall'amministrazione comunale, grande soddisfazione per l'avanzamento dei lavori è stata espressa anche dagli assessori Celestino Marchini e Gabriele Bove, che hanno colto l'occasione per ricordare gli interventi già ultimati nel quartiere, come la nuova rotatoria e il sottopasso di Piazzale Boccherini, l'allungamento della pista ciclabile in Viale Puccini, la ristrutturazione del parco urbano di Via Matteotti e la riqualificazione di Piazzale Sforza e del Centro Civico.